53. Proclamato eletto sindaco del Comune di Cimitina nella consultazione elettorale del 28 e 29 marzo del 19.20, ai sensi dell'articolo 50,11 del 18.8.2009.267, oggi 12 del mese di aprile del anno 2010, alle ore 18.25, innanzi al Consiglio Comunale di Cimitina, presto il seguente giocamento. Giuro di osservare le avventa della Costituzione italiana. Amici concittadini, è particolarmente gradita l'occasione del primo Consiglio Comunale per ringraziare tutti quanti per la fiducia, accordateci ancora una volta. Come sempre, a spazio di questi lunghi anni di impegno, sarò ancora il sindaco di tutti, augurando una disponibile tambia collaborazione per portare la nostra Cimitina a livello di vivibilità e traguardi elevati. Voglio innanzitutto rivolgere ai Consigliere Comunale, ai veterani di cograzie, per il fattivo impegno di questi anni. Ai nuovi porgo un glorioso benvenuto e da un augurio di ottimo lavoro. Sono certo che per un loro entusiasmo costituiranno un arricchimento per questa squadra e per la squadra, sia da portare a movimenti che da mettere in campo. Il programma dei democratici per Cimitini è chiaro in tutte le sue fasi e forme, spetta ora la nostra capacità nel profondo rispetto dei ruoli e della diversità portata al movimento. All'opposizione, che guarda appena l'idolo per il lavoro da svolgere, chiede spessamente riflessioni e collaborazioni per una relazione sinergica tesa al benessere generale e mezzo al contrasto fino a se stessa. Questo consesso è l'espressione del popolo sovrano, che tutti dobbiamo seguire in base al mandato che ci accomveneva. Rispettiamo ed operiamo. Buon lavoro a tutti.